L'identità Questa mattina vogliamo approfondire il tema dell'identità. Cos'è l'identità? Quando parlerò di identità questa mattina non mi riferisco primariamente alla nazionalità, al cognome che abbiamo o al nostro sesso. Parlerò di identità come risposta alla domanda ma chi sono io davvero? Cosa dà valore alla mia vita? Cosa dà significato alla mia esistenza? E quindi la comprensione di chi tu sei e attraverso cosa ti definisci principalmente. Se guardiamo all'epoca in cui viviamo oggi e se guardiamo alla storia possiamo scoprire due approcci diversi come scoprire l'identità. Due modi diversi come le persone scoprirono la propria identità. Nelle culture antiche la formazione dell'identità funzionava così. Tu fai parte di una famiglia, fai parte di un gruppo di persone e la famiglia e i gruppi di persone a cui appartieni sono loro che ti attribuiscono un ruolo e una funzione da svolgere. La tua identità quindi consiste nel fare nelle cose che ti dice la tua tribù, nello svolgere le funzioni che ti sono state date. Se dovessimo chiedere a una persona del passato, a una persona che non vive nell'Occidente «Chi sei?» risponderebbero «Sono un padre, sono una madre, sono un figlio, ho questo determinato ruolo e il mio valore consiste nel fatto che la mia famiglia mi accetta perché faccio quello che mi è stato detto, perché mi sottometto a questo ordine per il bene comune». E così, sottomettendomi a questo ordine, so chi sono e so di essere una persona buona. In fin dei conti sei la tua funzione, sei il tuo ruolo, sei quello che ti viene detto. Guardiamo come le persone trovano l'identità nella nostra cultura, nella cultura moderna occidentale. Qui il modo in cui si scopre l'identità è totalmente diverso, è l'opposto delle culture antiche. Dopo la seconda guerra mondiale l'individualismo diventa sempre più grande e le persone guardano sempre di più a quello che hanno dentro di loro. E qui viene detto che la tua identità non viene da fuori. Nessuno ti può dire chi tu sei. Sei tu che devi guardare dentro a te stesso. Sei tu che devi vedere quali sono i miei desideri più profondi. Cosa voglio io? Sei tu che devi trovare il tuo vero io ed esprimerlo. Sei tu che devi trovare te stesso e realizzarti. Quindi la via tradizionale dell'identità ti dice tu sei la tua funzione nella tua società e il tuo valore consiste nell'onore che il tuo client ti dà quando fai parte di questa società. Cioè nella via moderna viene detto tu sei i tuoi sogni, tu sei i tuoi desideri più profondi. Tu sei colui che decidi di essere. Il tuo valore consiste nel rispetto che te stesso ti dai quando riesci a raggiungere i tuoi sogni. Ora tutti questi due approcci, queste due vie hanno un problema possono opprimere le persone. Nella via tradizionale cosa succede? Se evadi da quello che viene detto vieni escluso dalla tua società. Se rispingi il ruolo che ti viene dato dal tuo clan hai un problema. Padre calzolaio, figlio calzolaio, non c'è discussione. Sei imprigionato nella tua identità. Invece nella via moderna trovare la propria identità diventa un grosso peso. Sei te stesso che devi decidere chi voglio essere. Sei tu che devi raggiungere l'obiettivo con le tue proprie forze. Sei tu che devi essere bello, che devi essere figo, che devi avere successo, che devi raggiungere i tuoi sogni. Inoltre come fai a fondare la tua identità su qualcosa che cambia così in fretta come i tuoi desideri e che spesso anche si contraddice? La parola di Dio ci mostra un altro approccio come possiamo trovare la nostra identità. È Dio stesso colui che ci dà un'identità. È Dio che ci ha creati, che ci conosce e sa chi siamo davvero. E come possiamo trovare questa identità attraverso Dio? Gesù ci paragona a delle pecore che non sono indipendenti, delle pecore che hanno bisogno di un pastore. In Giovanni 10 leggiamo Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Gesù stesso è questo pastore ed egli conosce il tuo nome. È lui che ti chiama per nome e desidera che tu gli appartenga. La Bibbia quindi ci mostra che possiamo trovare l'identità appartenendo a Gesù. E la parola di Dio ci invita a trovare la nostra identità nella relazione con Dio. Credi che Dio ti ama, che Dio ti conosce e che il Dio dell'universo ti chiama per nome? Gesù continua in Giovanni dicendo Io sono il buon pastore Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Qui troviamo il segreto dell'identità cristiana. Non è un'identità che ti opprime e non è un'identità che devi trovare con le tue prestazioni. È Gesù stesso che ti dà identità è lui che dice Io muoio per i tuoi peccati alla croce. Filippesi 2 leggiamo Cristo Gesù il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù viene in questo mondo e vive una vita perfetta una vita nell'amore come nessun altro essere vivente su questa terra. Come Dio come re dell'universo meriterebbe acclamazione, onore e invece svuota se stesso e va alla croce. Merita onore e invece si abbassa affinché noi possiamo trovare libertà affinché possiamo trovare la vita attraverso la fede in Lui. Se crediamo a Gesù e diciamo Padre accettami non per quello che ho fatto io ma per quello che ha fatto Gesù Dio ci perdona i nostri peccati. Dio prende i nostri peccati e la punizione che dovremmo meritare e ci dà libertà. Gesù dice ho pagato per te Gesù prende quello che meriteremmo noi e ci dà quello che meriterebbe Lui. E se sperimentiamo questa nuova nascita come abbiamo anche sentito settimana scorsa succede qualcosa Dio ci dice tu sei mio figlio tu sei mia figlia. E quello che Gesù qui ci propone è unico non c'è nessun'altra cultura non c'è nessuna religione nessuna filosofia che ha lo stesso contenuto. Tutti dicono tu devi fare questo devi fare quest'altro per raggiungere Dio per trovare la pace per essere sufficiente. La Bibbia invece dice credi a Gesù e a quello che Lui ha fatto e sarai accettato. Sei accettato da Dio e poi sei libero di fare il bene. E così in fin dei conti nella fede cristiana troviamo un processo totalmente diverso di come possiamo trovare la nostra identità. Non è il nostro ambiente sociale che ci dà l'identità non sono i nostri sogni che ci danno l'identità ma è Dio che ci dona un'identità. Anche Paolo dice in Primo Corinzi non mi importa di essere giudicato dagli altri non mi giudico neanche da me stesso quello che conta è quello che pensa Dio su di me. E se la tua identità si basa su questa relazione con Dio questa fede in Cristo vivrai in maniera diversa. se fallisci nell'ambito dell'amore nell'ambito del lavoro della carriera se non riesci a raggiungere magari dei sogni e non hai basato la tua identità su queste cose non sarai distrutto non finirai in una crisi esistenziale ma queste cose ti aiuteranno a diventare ancora più forti nella tua vera identità in Cristo. Ora vogliamo chiederci cosa ci aiuta a stare saldi in questa identità cosa ci aiuta a stare fermi nella fede in Cristo noi come esseri umani non viviamo su un'isola ma siamo influenzati da tantissime cose quindi scegli l'influenza giusta scegli quell'influenza che ti rinforza nell'identità di Dio vediamo tre di questi aiuti ci aiutano a stare fermi nell'identità di Cristo scegli le relazioni migliori le persone che ci influenzano di più non sono necessariamente quelle con cui trascorriamo la maggior parte del tempo ma sono quelle a cui apriamo di più il nostro cuore un vero amico il nostro partner sono persone con cui condividiamo i nostri sentimenti persone a cui ci apriamo persone di cui ci fidiamo e dalle quali prendiamo anche in considerazione dei consigli sono delle persone che ci influenzano con le loro opinioni per questo voglio incoraggiarti tra le amicizie che hai cerca di avere quelle amicizie che ti spronano a stare vicino a Dio quelle amicizie che ti aiutano a stare saldi in questa identità un amico che ha il coraggio di metterti in discussione un amico che ha il coraggio di dirti la verità e che ti corregge quando sbagli un amico che ha la stessa identità in Cristo e se invece hai ancora davanti a te la bella opportunità di trovare l'amore della tua vita allora sii saggio scegli un partner la cui identità non si basa su qualcosa di temporale di qualcosa che cambia di qualcosa che finisce ma un coniuge con cui puoi condividere la cosa più bella della vita la relazione con Gesù quanto sono grato anche per mia moglie che è come uno specchio che mi riprende e mi incoraggia e mi incoraggia anche spiritualmente e penso che la relazione è una delle scelte più decisive e incisive che possiamo prendere per la nostra vita con Dio vediamo un ulteriore punto che ci aiuta a stare saldi nell'identità di Dio non sono solo le persone che ci stanno attorno che ci influenzano ma anche quelle cascate di informazioni alle quali siamo esposti tutti i giorni il giornale di prima mattina l'articolo su Facebook un video su Youtube il telegiornale i cartelli pubblicitari questi media non solo ci portano il mondo in casa nostra ma trasformano anche il nostro modo di pensare e i media tutto quello che ascoltiamo e sentiamo e vediamo ha il potenziale di influenzarci a tal punto da trasformare anche il modo in cui troviamo la nostra identità tutto un tratto modi di pensare mondani diventano il nostro modo di pensare e cambiano la base della nostra identità dosa quindi i media nella maniera giusta e cerca di riconoscere cosa non ti fa del bene quello che ti allontana dall'identità in Cristo dall'altra parte scegli i media che ti rinforzano nella fede in Gesù e penso che il media migliore è il libro che ti può aiutare di più è la Bibbia è la parola di Dio stessa che ci aiuta a stare saldi in questa identità leggila meditaci sopra studiala oggi abbiamo pure ce l'abbiamo pure sempre in tasca ci sono piani di lettura aiuti per leggere e studiare questa parola magari sei uno che legge molti libri quindi legge anche dei libri di approfondimento biblico non solo libri con storie interessanti o magari ascolta anche una buona predica invece di guardare la televisione vediamo qual è il terzo punto che ci aiuta a stare saldi nella fede in Cristo nella nostra identità si parte di una chiesa locale su questo terzo punto vorrei soffermarmi un po' più a lungo la Bibbia ci mostra che se troviamo la nostra identità in Dio non solo la relazione con Lui diventa importante ma anche la relazione con gli altri cristiani e se diventiamo credenti diventiamo parte di una comunione particolare la comunione cristiana e la Bibbia la chiama la chiesa la comunione cristiana non è semplicemente un ammucchiamento di cristiani che vengono insieme ma è qualcosa di più bello e di più ricco e la chiesa è là dove Gesù Cristo stesso è presente dove ci sono anche diversi diversi fattori che la rendono possibile per esempio la frequenza se non ci si vede spesso non si può essere chiesa o magari l'autenticità un luogo dove possiamo condividere i nostri sentimenti reciprocità un luogo dove dove c'è fiducia e anche incoraggiamento reciproco luogo dove c'è anche della gentilezza dove mostriamo rispetto anche per le persone che sono diverse da noi un luogo di compassione dove ci aiutiamo nel bisogno un luogo di umiltà un luogo dove posso anche ammettere un mio errore dove posso chiedere perdono un luogo di sincerità dove ci amiamo abbastanza da essere sinceri e da dirci anche la verità nell'amore un luogo della grazia dove siamo pronti anche a perdonare quando altri ci feriscono un luogo della riservatezza quindi la chiesa non è la fonte per i nuovi pettegolezzi è un luogo di unità lì dove siamo uno attorno agli scopi di Dio alla missione che Dio ci ha dato essere cristiani quindi non è qualcosa di individualistico solo tra me e Dio ma è qualcosa che coinvolge anche altre persone e questa comunione non è composta da persone che sono tutte uguali a te sono persone che hanno diversi interessi persone di altre origini di altre culture di altre nazionalità e la Bibbia ci dice che questa comunione è il corpo di Cristo che rappresentiamo come chiesa il Cristo sulla terra e che attraverso la chiesa Gesù porta il suo amore e porta anche il messaggio di speranza e di salvezza ora possiamo chiedersi ma se la chiesa rappresenta Cristo come mai ogni tanto è così impegnativa perché non funzionano tutte le relazioni tra i cristiani è perché viviamo in una tensione anche se Gesù ci ha liberati dal peccato e dalla condanna non ha tolto il peccato definitivamente dal mondo ancora e quindi ogni tanto cadiamo in vecchi schemi ogni tanto ci prendiamo troppo sul serio e per questo la Bibbia non solo ci incoraggia a credere in Cristo ma anche a lasciarci trasformare continuamente da Lui e per questa trasformazione Dio desidera proprio usare le altre persone che sono attorno a noi e anche la chiesa locale hai già scoperto quanto sei paziente quando non c'è nessuno che ti snerva o quanto sei pieno d'amore se sei attorniato da persone tanto amabili o quanto sei umile se tutti ti rispettano e ti fanno complimenti dobbiamo ammettere che se siamo isolati abbiamo davvero tante virtù invece in comunione con gli altri vengono alla luce le nostre vere debolezze vengono alla luce le nostre mancanze e anche certi nostri peccati per questo la comunione è così centrale e non è opzionale se vogliamo essere trasformati se vogliamo diventare quelle persone che Dio desidera che diventiamo la Bibbia sottolinea questo anche con molte espressioni gli uni agli altri amatevi gli uni agli altri servitevi gli uni agli altri siate misericordiosi gli uni agli altri e credo che sia chiaro che nessuno di noi riesce a fare tutte queste cose in maniera perfetta ogni tanto falliamo e abbiamo anche occasione di crescere e appunto cercare di mettere in pratica queste affermazioni queste esortazioni gli uni agli altri ci aiuta anche a portare alla luce i nostri peccati e ci aiuta a crescere nella fede e a essere dipendenti dallo Spirito Santo possiamo dire che le relazioni sono un po' come un laboratorio dove impariamo ad affidarci alla grazia di Dio un luogo dove sperimentiamo la forza trasformatrice del Vangelo essere parte di una chiesa locale però non ci aiuta solo a crescere e a cambiare nel nostro carattere ma ci aiuta anche a diventare saldi a rinforzare la nostra identità in Cristo è proprio nell'incoraggiarci a vicenda che ci aiutiamo a focalizzare sulle cose che davvero contano su questa relazione con Gesù e soprattutto quando facciamo parte di un piccolo gruppo quando abbiamo dei cristiani con cui viviamo in una relazione molto più stretta riusciamo a essere trasformati e credo che la chiesa non riusciremo mai a sperimentarla nella sua vera profondità se non siamo parte di un piccolo gruppo se non siamo in viaggio con delle persone che ci stanno davvero vicine nella fede voglio quindi incoraggiarti a non solo essere un visitatore della chiesa ma un membro che è collegato agli altri membri quindi abbiamo tre aiuti per stare saldi nella nostra identità possiamo scegliere le relazioni migliori i medi adeguati e possiamo essere parte di una chiesa locale forse questa mattina quando abbiamo parlato di identità ti sei hai realizzato che magari sei cristiano ma la tua identità principale non la basi sulla tua fede in Cristo ma su altre cose magari su dei tuoi sogni o su qualcosa che ha detto qualcun altro che devi essere voglio incoraggiarti a riflettere su cosa baso la mia identità cosa mi dà valore veramente è la fede in Cristo è la mia identità in Cristo ma sono altre cose voglio pregare grazie Gesù che sei venuto in questo mondo per salvarci grazie che sei venuto a darci un'identità grazie che sei colui che ci chiama per nome sei colui che dice tu sei mio e vogliamo ringraziarti per questo grazie che siamo liberi da questa pressione di di dover raggiungere qualcosa che ci dicono gli altri o di dover raggiungere un qualche sogno che è dentro di noi grazie per questa libertà e Gesù ti prego per tutti quelli che sono qua aiutaci a trovare la nostra identità in te e ti chiedo anche per quelle persone che non ti hanno mai conosciuto di aprirsi a te di scoprire la loro vera identità in te grazie Gesù Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti